Ragazzi prima di iniziare con questo video volevo lanciarvi il contest più incredibile di sempre, aprite bene le orecchie ragazzi, se questo video dovesse arrivare a 10.000 mi piace, io sceglierò una persona tra di voi, una sola, gli scioperò tutto il pass, dal livello 1 al livello 100. Ragazzi lasciate un commento qua sotto con scritto partecipo, selezionerò uno di voi, vi chiederò lo screen del mi piace ovviamente, e ragazzi scioperò tutto il pass a uno di voi, quindi se volete lasciate un mi piace e provateci, se non vincete ci avete provato, se vincete avete svoltato perché avete un pass al 100 gratis. Io vi ricordo che sono i live su Twitch in questo momento, link in descrizione ragazzi perché andiamo a vedere tutte le news di questo pass, vi aspetto ragazzi. Ragazzi finalmente il pass è uscito, battaglia reale, già le prime skin spoilerate così, già le prime skin spoilerate così, la stagione 5 è qui, navi vichinghi, avamposti del deserto e antiche state sono apparse un po' in tutta l'isola. Ok come promessa ti regaliamo quello che non mi interessa sinceramente, bella la schermata, dub da gentiluomo, yes baby. Oh mio dio, stagione 5, pass battaglia, quanto cazzo sei bella, lo sapevo che c'era, ti prego, quanto cazzo sei, oh mio dio, quanto hype. Ok queste sono le skin iniziali, ma non si può shoppare il pass con i livelli già. Oh, 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 e questo cos'è? C'è troppa roba tutta insieme raga, c'è troppa roba tutta insieme, allora. Ok, tiro da 3, lascia, zainetto bellino, è simile a quella che abbiamo già, linea rossa, ci sta. Sei un mito, sei un mito, onesto, piccone discutibile, discutibile, oh bello invece, no? Questa è simpatica. Pallone da, ma cosa serve sta roba? Soccorso in corsa. Ah ok, lo fa shoppare. Beh raga, che dita, allora direi che si può shoppare, secondo me è una buona idea. 2800 VBAC costa, direi che forse 60 dovrebbero bastare, eh ma mi sa che non basteranno, quindi mi sa che si deve fare la spesa grossa. Ovviamente vi taglierò il pezzo perché si vedono un po' di dati, credo, ma in realtà non si dovrebbe vedere niente. Sì, il mio nome, vabbè, ma quello non è un problema. Cioè quello non è un problema, il mio nome lo sanno tutti. Oh baby! Nel frattempo ragazzi sono in live, mentre sto registrando il video, quindi è arrivata la sub di Brayton, grazie mille caro. Allora raga, a sto punto acquistiamo il pass direttamente, let's go. Molto bellino, pass battaglia potenziato. Ok, mi fa vedere tutti i livelli. Bella, bellina questa, eh, mi garba. Scrive bene, due skin, oh cos'è, cos'è? Sfida e pass battaglia, sfida alla deriva. Oh cos'è? 5 livelli gratis. Incroccatore rock and roll. Vabbè, qui vediamo cosa sarà sta roba. Zainetto. Questa skin non mi piace tantissimo. E ci dice, ok, vabbè, i V-Buck, va bene. Acquista livello. Li acquistiamo ragazzi di 10 in 10. E vediamo cosa che ci dà. Ah ma non ci fa neanche vedere cosa che stiamo acquistando. Ah così, a colpo sicuro. Li accettiamo, quant'è il massimo di livelli? 15. Però voglio vedere cos'è che sto comprando. Bello! Questo mi piace per assurdo. Carino, un po', un po' spartidolare. Beh, il 2 più 2, ok, fin qua li avevamo visti tutti. Ok, ci sta. Ci compriamo questi 6 livelli che ce li siamo già spoilerati. Da questa pagina in poi non ho mai visto niente. Quindi, Blackbeard di Rainbow Six. Onesto. Ok, ci compriamo questi 8 livelli. Ok. Oh, bello, bello, bello. Un po' eccessivo forse. Però andiamo avanti. 8 livelli. Vabbè, oddio, no. Si poteva fare meglio comunque, secondo me, su alcune cose. Siamo già a livello 87. Abbiamo lei. Poi vabbè, sono V-Bucker. No, vabbè. È carta igienica. Metteremo questa. Metteremo questa. Io ve lo dico. Metteremo questa. Ragazzi. Dopo questa schermata ci sarà la skin finale del pass. Ok. Ci sarà la skin finale del pass. Quindi. Io appena clicco, ragazzi, ufficialmente, siamo all'ultima schermata del pass. Voglio vedere cosa sono questi palloni. Palla da pallacanestro alla moda. Anche qua avevamo un po' di cose che... Pallone da spiaggia alla moda. Un sacco di roba. Palla da golf alla moda. Lo scudo. Pallone da spiaggia. Questo non è alla moda, è un po' da sfigato. Pallina da golf da sfigato. E vabbè, raga. Allora, ci portiamo avanti. Dai, ho un sacco di ansia. Vediamo l'ultima skin qual è. Uh! Quella che piace a me! Ma è bellissima! No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Quante skin abbiamo ora. Ed è quella che poi si completa. E diventa la skin finale che ci hanno spoilerato. Che pass! Incredibile! Sono soddisfatto, sapete? Sono soddisfatto del pass. Seriamente? Ci sta. Questo pass non è affatto brutto. Metterò ovviamente la carta igienica che scende. Perché è troppo bello. Secondo me ci sta. È un... What? Hanno cambiato un po' di cose a livello di menu. E le sfide. Mi interessava capire questa sfida. Ah! Con i punti esperienza! Non più con i livelli! Quindi, completa quattro sfide qualsiasi per ottenere l'oggetto ricompensa. Quindi per ottenere il piccone. 35.000 punti esperienza. Si ottiene la parte del petto, le braccia, le spalle, la maschera. E la maschera completa con 500.000 punti esperienza. Qua bisognerà giocare come dei matti. Poi abbiamo roll trip. Oggetto misterioso da svelare. Che ecco a me lo spacca tutto. Mi piace. Alla deriva. Che sono molti meno punti esperienza. E ti sblocca dei oggetti particolari. Che sarebbe la... Belli? Madonna che belli che sono! No, vabbè. Le skin... I back sono bellissimi. No, vabbè. I back sono bellissimi, raga. I back sono bellissimi. Eccezionali, bellissimi. Davvero un ottimo lavoro per ora, eh. Le sfide. Infliggi danni agli avversari con le mitragliette. Cerca un lama. È tosta questa, eh. Perché non c'è più parco giochi. Granata appiccicosa. Spiagge snobo. Fulmini fluttuanti. Segui il mappone del tesoro trovata rapide e rischiose. Elimino i nemici in corso commercio. Non sarà affatto semplice, secondo me, questa cosa, eh. Non sarà per nulla semplice. Queste sfide. E andiamo a vedere un attimino qualche balletto. Perché c'è qualche balletto da rivedere. Tipo io metterei i balletti nuovi. Tipo la dub da gentiluomo è eccezionale. Questo qui è il balletto del livello 95. È l'ultimo ballo che c'è. Non male, è simpatico. Cioè, è un ballo alla fine, raga. Cioè, non è che ci si può aspettare. Chissà che roba incredibile. Mettiamo queste. Questa qua. Dovrebbe essere l'ultima. Palla da pallare. Fa troppo casino, però. Metterai questa. Tutte le cose nuove metterai a sto punto. Ma sapete che è proprio bellino, comunque, come balletto? Ok, tutti i balletti nuovi. Cambio la schermata. Ne ho visto una troppo bella di schermata prima. Questa qua. Questa schermata è eccezionale. Ok, ho tutto cambiato. Tutto nuovo. Il pass è questo. Gli oggetti... Otteni stili aggiuntivi per l'ultima skill. Che ci sta. Ci sta. Qui mi sta facendo vedere tutte le fasi. Credo. Sì. Quanto è bella, raga. Porca troia. E a me piace un sacco, raga. Cioè, io sono un sacco contento. Io direi comunque che può bastare qui per questo video. Vi ricordo che io in questo momento sono in live su Twitch. Vi lascio il link in descrizione. Andiamo a vedere tutto il resto di questa season in live direttamente. Vi aspetto, ragazzuoli. Intanto continuo a live con i ragazzi qua su Twitch. Let's go.